Non è la prima volta che il nostro Paese si trova ad affrontare emergenze nazionali, ma siamo un Paese forte, un Paese che non si arrende, è nel nostro DNA. Stiamo affrontando la sfida del coronavirus, è una sfida che non ha colore politico, deve chiamare a raccolta l'internazione. È una sfida che va vinta con l'impegno di tutti, cittadini, istituzioni, scienziati, medici, operatori sanitari, protezione civile, forze dell'ordine. L'Italia tutta è chiamata a fare la propria parte. Da gennaio, quando avevamo appena due casi, abbiamo subito messo in atto misure che sono apparse drastiche, ma che in realtà erano semplicemente adeguate, proporzionate a tutelare la salute dei cittadini.